buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme le trasmissioni della nostra emittente leggendo i giornali questa mattina e dando un'impronta all'informazione della giornata vediamo attraverso dal manacco del giorno intanto chi si festeggia oggi e vediamo che è un santo da un nome particolare sembra un nome carnevalesco in realtà è un santo molto molto venerato specialmente in oriente ecco la grafica il santo è san pantaleone san pantaleone un taumaturgo visse nel quarto secolo e a causa dell'invidia suscitata dalle sue opere diciamo meglio anche dai suoi miracoli perché riusciva a guarire diverse persone non so se per scienza oppure per grazia divina probabilmente per grazia divina suscitò molte invidie fu denunciato all'imperatore alla volta era galerio e fu martirizzato insomma cadde sotto la scure appunto dei pagani san pantaleone un nome che rimane nella mente e nell'orecchio di tante persone ma non perché è una maschera carnevalesca perché è anche un grande santo allora passiamo alle previsioni del tempo e dobbiamo annunciare che che farà ancora bel tempo su tutte le marche qualche nube in più in appennino nelle ore pomeridiane le tempore le temperature massime sono in rialzo arriveranno a 34 gradi mentre le minime si sono attestate a 23 gradi sulle coste i venti spireranno con una tensione media da est e sud est e nell'entroterra da sud est il mare è calmo il sole è sorto alle 5 e 49 e tramonterà alle 20 e 38 questo è un po il quadro della delle condizioni fisiche della giornata e allora noi apriamo i giornali questa mattina sul resto delle carlino ecco la pagina di fano dove vediamo l'esito della conferenza stampa ormai abituale che ha introdotto a chi ha reintrodotta la nuova giunta del venerdì e si è parlato di eventi si è parlato di eventi di manifestazioni perché si è annunciato un cambiamento di passo per quanto riguarda il mese di agosto il mese di agosto solitamente era un mese in tono minore per quanto riguarda le manifestazioni rispetto al mese di luglio il mese di agosto non aveva si diceva grandi ma aveva bisogno di grandi attrazioni perché già il mare già le bellezze di fano erano sufficienti per attrarre turismo ma invece la nuova giunta intende rimpinguare veramente far sì che il mese di agosto diventi un mese particolarmente attrattivo anche per quanto riguarda gli eventi e lo hanno detto ieri il sindaco luca serfilippi e l'assessore ai grandi eventi alberto santorelli allora eventi e concerti al turismo serve una scossa per la nuova giunta perché è stato detto che fino ad oggi insomma l'estate fanese non è stata un granché per quanto riguarda le presenze turistiche nonostante che eventi come l'affano dei cesari come il festival jazz come festival passaggi abbiano avuto un grande successo allora vediamo le novità che hanno così rivelato ieri gli amministratori innanzitutto si celebreranno due importanti anniversari i 60 anni dal naufragio dell'8 giugno 1964 di alcune imbarcazioni fanesi in seguito alla grande tempesta il grande temporale che investì la nostra costa ci furono lutti e rovine e fu un evento memorabile che viene rievocato anche da quella bella scultura che è posta sul molo di ponente di fano dove si vede una donna con un braccio in bambino che scruta il mare in attesa dell'arrivo del suo marito che probabilmente non arriverà come non arrivò per alcune famiglie in quel lontano giorno del 1964 era l'8 giugno e poi si festeggia si celebrano i 40 anni della visita di papa paolo giovanni secondo nel nostro territorio un evento veramente memorabile che coinvolse l'intera città ma non solo il papa fu accolto con grande calore sia sulla spiaggia di sassonia che nella zona del porto dove pranzò insieme ai pescatori e l'evento è stato ricordato con un incontro dalla confraternità del suffragio nell'ambito di quella serie di incontri che vengono denominati i giovedì del suffragio tutti i giovedì infatti fino alla fine di agosto ci saranno incontri su temi di particolare interesse cittadino allora rafforzeremo l'identità e la tradizione della festa del mare hanno detto santorelli e ser filippi e quest'anno celebra la sua 65esima edizione la festa del mare in programma da venerdì 2 agosto a domenica 4 ci saranno tanti eventi che coinvolgeranno i pescatori in una celebrazione della nostra storia marinara l'idea per il prossimo anno è quella di trasformare la festa del mare in un grande evento che coinvolga il porto il lido e l'arzile e intanto il lido sarà coinvolto quest'anno da un tutta una serie di animazioni che si svolgeranno nel mese di agosto dal primo agosto fino al 15 ci sarà tanta musica gastronomia palchi lungo il lido e quindi iniziative sia per le persone di una certa età potranno ballare con balli di gruppo sia per i giovani che potranno divertirsi la programmazione del 2024 è stata in parte ereditata dalla vecchia giunta ma verrà incrementata appunto con queste iniziative comunque c'è un cambiamento un cambiamento che il resto del carlino evidenzia in questo secondo articolo se il filippi boccia le vongole giganti vi ricordate quelle due strutture a forma di vongola che la vecchia giunta aveva ideato e programmato per sistemare nel porto nella zona antistante la capitineria di porto nell'ambito di quella che era la fano marinara una serie di attrezioni che rendevano il porto di fano un'attrazione turistica con tante spiegazioni tante basi su cui leggere appunto a prendere le tradizioni della nostra marineria siccome la nostra marineria oggi si avvale molto sul vongolare si erano così erano state previste delle strutture dove poi all'interno c'erano dei video c'erano insomma delle delle espressioni che venivano manifestate con la tecnologia più avanzata ebbene la nuova giunta rinuncia a tutto questo e ora cerca di utilizzare diversamente i 700 mila euro destinate alle futuristiche installazioni che erano previste dalla vecchia passiamo ad altri argomenti passiamo ad altri argomenti vediamo come il resto del carlino ancora si occupa della polemica è stata suscitata da francesco da francesco panaroni il consigliere comunale del movimento 5 stelle che aveva pizzicato diciamo così l'auto della vice sindaca loretta manocchi auto privata parcheggiata irregolarmente davanti alla sede del comune abbiamo visto ieri come la vice sindaca si era giustificata dicendo che aveva preso la sua auto privata per svolgere un servizio di interesse pubblico però insomma oggi panaroni in calza e dice manocchi si dimetta lei sono nauseata di questa di questo attacco comunque è un attacco politico che viene evidenziato con grande evidenza francesco panaroni non mulla anzi rincara le critiche sulla vicenda del parcheggio dell'auto della vice sindaco nella ztl di via san francesco sindaco ed assessori dice panaroni e si spostano in città con le auto proprie per svolgere il loro mandato e non utilizzano macchine comunali né tantomeno entrano in ztl senza autorizzazione anziché scusarsi questo lo fa in generale insomma anziché scusarsi la vice sindaco per questo comportamento una leggerezza può capitare a chiunque ma non chi invece rivendica la legittimità del suo operato insomma invece di scusarsi dice no io ho fatto secondo le regole mentre le regole insomma non sono proprio così è una dibattito che così evidenzia un attacco insomma tra maggioranza tra minoranza e opposizione passiamo ad un altro argomento un argomento più serio che interessa molte molte famiglie circa 200 famiglie per una decisione che l'amministrazione comunale ha rivelato nella giornata di ieri si parla di asili nido di scuole materne il prossimo anno scolastico una scuola materna usufruirà dell'aumento di orario in più rispetto a quello normale rispetto a quello che è accaduto l'anno precedente allora siamo più chiari ha rivelato l'assessore ai servizi educativi l'assessore mangernino dice avremo quattro scuole dell'infanzia il prossimo anno scolastico ovvero la gaggia la gallizzi la trottola con la novità di una scuola in più che è la zizi che avrà un aumento del servizio di di apertura appunto delle strutture dalle 16 alle 17 e 30 e questo è importante soprattutto importante per i genitori che lavorano e che non riescono andare a prendere i loro figli non avendo un appoggio parentale alle quattro del pomeriggio e poi a parte questo ci sono anche quattro asili nido come quelli dell'anno scorso che usufruiscono dello stesso ampliamento di orario insomma un'iniziativa importante tanto più che il prossimo anno scolastico tutto questo entrerà in vigore dal 9 di settembre in anticipo di alcuni giorni rispetto all'inizio dell'anno scolastico previsto dalla regione che è l'11 settembre e quindi ci sarà un'agevolazione in più per le famiglie ora abbandoniamo Fano e passiamo a Mondolfo dove si rivela una decisione che solleva un po' qualche perplessità e i camper fanno festa vicino al cimitero anche a Mondolfo come a Fano c'è una zona camper che è situata vicino al Campo Santo insomma non è il luogo più idoneo però insomma è importante che ci sia un delle aree camper per consentire a coloro che visitano che fanno che praticano questa questa forma di turismo di avere un po' delle strutture a loro confacenti ebbene in questo caso l'opposizione è l'attacco della giunta per quanto riguarda la realizzazione di una zona che è vicino alle tombe gentili così non c'è rispetto verso i defunti afferma insomma questa è una sua perplessità un'area camper attaccato al cimitero succede a Mondolfo succede anche a Fano abbiamo detto dove il gruppo di minoranza futura molto critico al riguardo ha depositato un'interrogazione per capire come sia stata fatta questa scelta il problema invece è che invece di un parcheggio molti camperisti usano questa area come un campeggio e questo va contro ogni regola insomma i campeggi dove uno staziona mangia fa tutto quello che gli serve in un'area a lui destinata mentre in un parcheggio dovrebbe soltanto fermare l'auto senza tirare fuori né sedie né tavoli né pranzare né mettere a stendere i panni insomma a fare tutte queste cose ebbè questa è una polemica che vedremo come si svilupperà intanto a San Costanzo c'è una decisione che verrà presa dalla prossima seduta del Consiglio Comunale la quale tra i punti all'ordine del giorno fissata per martedì prossimo alle ore 18.30 figura l'approvazione di un intervento di 8.296 euro per sostituire le grondaie dell'ambulatorio che deve essere ristrutturato sono ambulatorie che si erano ammalorate e quindi hanno bisogno di una cura di una manutenzione e poi si prevede anche l'elezione per la prima volta della figura del Presidente del Consiglio Comunale e poi si approveranno anche le agevolazioni per il pagamento della Tari della tassa per la raccolta dei rifiuti per quanto riguarda le famiglie in difficoltà quelle che non riescono ad arrivare alla fine del mese e purtroppo non riescono nemmeno a pagare l'importo di questo servizio, l'importo di questa tassa a Dormino Federico Scaramucci insorge contro le dichiarazioni fatte da Giorgio Londei per quanto riguarda la rivendicazione di una provincia autonoma per la città Ducale provincia autonoma, dice Scaramucci, è una follia reazionaria il capogruppo del PD boccia la proposta rilanciata ieri da Giorgio Londei e lo attacca Londei sarebbe l'ideologo occulto di Gambini Gambini il braccio e quindi Londei la mente questo è quello che dice appunto Scaramucci la città deve guardare al mondo, non combattere contro Pesalo secondo l'esponente del PD se Urbino Capoluogo non rinuncerà alla linea secessionistica annullerò l'iscruzione e la critica che fa all'associazione e poi vediamo invece una nuova opera d'arte del Barocci che viene esposta al pubblico lo vediamo in questo articolo se riesco a vedere lo schermo, eccolo qua l'altro Barocci riapre l'oratorio della morte la chiesa dove si trova la crocefissione da lui dipinta solitamente non aperta al pubblico in occasione della mostra di tutti i quadri tutti insomma, non proprio tutti ma una buona quantità della produzione di questo grande pittore manierista in occasione appunto di questa mostra sarà aperta anche la chiesa del antico oratorio della morte in via Porta Maia, pochi passi dal Duomo dove è conservata una crocefissione dipinta dal maestro che normalmente non è fruibile al pubblico l'iniziativa è promossa dalla confraternita della morte presieduta da Luigi Bravi che dice grazie ad alcuni confratelli volontari saremo aperti tutti i giorni ad orario continuato e la chiesa col dipinto sull'altare è visibile attraverso l'ampia grata la posta dentro l'ingresso insomma, quindi un'opera in più che potrà essere così vista dal pubblico ed ora vediamo anche una gioiamo insieme ai genitori per questa nascita che è andato tutto bene Fiocco Rosa in ambulanza Sara, la piccolina nasce lungo il tragitto tra Cannavaccio e l'ospedale ebbè non ha aspettato di arrivare all'ospedale per nascere questa piccolina c'è stato sì un intervento piuttosto di urgenza è stata chiamata in fretta l'ambulanza perché la mamma potesse raggiungere l'ospedale di Urbino e la mamma era in avanzato stato di gravidanza e le contrazioni in corso suggerivano l'urgenza ma mai si pensava appunto che la bambina non volesse aspettare oltre per nascere ed è nata proprio all'interno dell'ambulanza tutto bene, comunque non ci sono state difficoltà Cimas cucina per gli olimpionici italiani la ditta dei fratelli Sansuini con sede a Urbagna prepara da mangiare agli azzurri ai giochi di Parigi un orgoglio faremo pure il crostolo che è proprio una delle specialità gastronomiche di Urbani insomma abbiamo anche un po' di nostro territorio a Parigi e allora diamo un'occhiata a quello che accade a quello che accade a Parigi lo vediamo qui nelle due pagine introduttive del Corriere Adriatico dove si parla di Gimbo il nostro portabandiere a Parigi sì, una figata, lo dice Papale Papale questo nostro campione Tamberi sfila in testa la squadra italiana portando la bandiera con la Errigo sotto la pioggia purtroppo la pioggia ha un po' rovinato questo grande spettacolo che dalle 19 fino a poi a notte a sera inoltrata è stato trasmesso da tutte le televisioni un grande spettacolo che si è dilungato sulle rive della Senna il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel i suoi cinque cerchi il fuori programma con le mani bagnate Tamberi perde la fede perde la fede che cade nella Senna e i palanuotisti maschili lo consolano non è che ci sono tuffati per andare a riprenderla ma dicono perso un oro un oro ne trovi un altro e speriamo che sia quello olimpico ebbene due pagine per quanto riguarda la partecipazione degli italiani alle Olimpiadi e poi anche una cronaca per la bella cerimonia per lo spettacolo che si è svolto ieri appunto nella capitale francese parliamo di siccità parliamo di siccità che è un altro argomento molto molto attuale siccità autobotti a Pesaro nella Scolano notti a secco in vasi in deficit manca l'appello un terzo della pioggia che cadeva in media è veramente un grave problema questo che si abbatte anche nella nostra regione perché cominciamo anche noi a avere povertà d'acqua infatti ritorna il caldo africano ogni record è stato polverizzato quest'anno previsto fino a giovedì prossimo un'ondata di calore con AFA a picchi di 35 gradi nella seconda decada di luglio intanto la temperatura media è stata di 4,7 gradi superiore al normale quindi veramente una cosa una cosa eccezionale e qui abbiamo sulla pagina regionale un articolo che riguarda Fano ebbene ci si è accorti che la Fano di Ser Filippi ora sfida la regione e lo fa per quanto riguarda la situazione sanitaria Ser Filippi ha ereditato una situazione sanitaria non certo agevole per la nostra città sappiamo tutti quali sono i problemi le difficoltà per le prenotazioni delle visite i lunghi tempi di attesa per avere le prestazioni ebbene la scarsità di notizie per quanto riguarda il futuro del nostro ospedale ebbene oggi c'è una dichiarazione di Ser Filippi che è stata poi ribadita anche nei giorni scorsi in consiglio comunale che Fano vorrà dalla regione quello che a Fano spetta l'affano di Ser Filippi ora sfida la regione attacco della Lega sul polo della sanità privata Cotignola 2 a Pesaro insomma non si vuole che i servizi previsti per Fano vengono trasferiti in questa struttura privata che si sta realizzando a Villa Fastigi Acquaroli e Saltamartini cosa c'è dietro questa accelerazione punto interrogativo ebbene c'è tutta una diciamo così una cronaca sui giornali per quanto riguarda la posizione piuttosto critica della giunta fanese per le decisioni assunte dalla regione ovviamente non si passa all'estremo perché poi la politica l'indirizzo politico è lo stesso però insomma si cerca di difendere le istanze della città niente nuovi invasi useremo il mercatale e la decisione espressa comunicata dall'assessore all'ambiente Stefano Aguzzi assessore regionale per quanto riguarda la perdurante crisi idrica la proposta che è in divenire quella dell'assessore Aguzzi è quella di contrastare la siccità con l'utilizzo della riserva di mercatale ora ci sono molti molti comuni che hanno elevato un'ordinanza dicendo di non sprecare l'acqua all'utenza proibendo appunto di innaffiare orti giardini di lavare le macchine di lavare spiazzali aree cortili e via dicendo insomma il problema è molto molto grave e si sta appunto cercando di ricorrere ai ripari siamo in conclusione vediamo anche come il problema si ripercuote in campagna rifornimento già cento cento i viaggi delle autobotti la col diretti la siccità fa lievitare i costi in agricoltura perché poi ci sono meno prodotti se appunto l'acqua non può irrigare i campi e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa intanto vi auguro una buona giornata grazie per l'ascolto e a risentirci